Buongiorno a tutti, oggi parliamo con la professoressa Chiara Savettieri che è professore associato di storia della critica d'arte all'Università di Pisa e con il professor Antonio Angelillo che è quest'anno docente presso un liceo artistico, uno dei più importanti licei artistici dell'intero Friuli, lui insegna precisamente a Udine, lui insegna architettura ma ha insegnato anche storia dell'arte, lui appunto è un architetto e il professor Angelillo e la professoressa Chiara Savettieri sono gli ideatori di un interessante progetto che va avanti da due anni e che ha portato alla produzione, alla realizzazione insieme anche ad altri soggetti di cui adesso parleremo, di una piattaforma che si chiama Atlas. Questa piattaforma consente agli studenti di realizzare delle interessantissime attività di ricerca, di studio e di documentazione proprio nel campo della storia dell'arte. Ecco, professore Angelillo, da cosa nasce questo progetto? Qual è la motivazione che vi ha spinti a mettere in piedi questa attività di cui adesso parleremo più dettagliatamente? Innanzitutto è nato praticamente il rientro dopo due anni di pandemia e nella constatazione che i ragazzi che avevano fatto appunto due anni di assenza dalle classi si trovavano in difficoltà sia relazionale sia nell'inizio di un percorso di apprendimento di una materia che peraltro era per loro nuova, quindi con anche una certa difficoltà dovuta al fatto che all'epoca il liceo in cui insegnavo era un liceo economico e sociale, scienze umane e linguistico e che quindi aveva poco a che fare con la materia. Quindi ho notato all'inizio uno scarso interesse anche facendo un breve sondaggio tra gli studenti e ho cercato di capire qual era il modo per poter riuscire a concretizzare un progetto didattico innovativo che potesse in qualche modo coinvolgere maggiormente questi studenti verso la materia. Ecco, professoressa Savettieri, questo progetto ha anche una particolarità che direi vale la pena di mettere in evidenza è un progetto che si realizza con una sorta di partenariato, non so se è il termine esatto, poi lei ce lo spiegherà meglio fra una scuola, anzi fra più scuole e l'università, in questo caso precisamente l'università di Pisa. Ecco perché l'università di Pisa è interessata a queste forme di partenariato e perché voi vi siete fatti coinvolgere insomma in questo progetto? Sì, in primo luogo è dovere dei docenti svolgere delle attività al di fuori dell'università, mettere in comunicazione l'università con altri enti, con la cittadinanza, con le scuole. Questa tipologia di attività si chiama terza missione e la terza missione è molto importante nella valutazione degli atenei, perché l'università non deve essere una monade che è autoreferenziale ma che dialoga con il resto del mondo. Io sono sempre stata interessata al mondo della scuola anche perché insegno metodologie della ricerca storico-artistica e mi ritrovo davanti delle matricole che vengono dalla scuola e quindi indirettamente capisco quali possono essere i problemi incontrati a scuola. E quindi quando io e Antonio Angelillo ci siamo messi a discutere di queste difficoltà ed è venuta fuori l'idea di questo progetto, abbiamo deciso ovviamente di ufficializzarlo attraverso una convenzione tra il mio dipartimento, che è il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, e la scuola nella quale il professore Angelillo insegnava. Senta professoressa, ma vogliamo far vedere ai nostri lettori, a chi ci segue, magari che cos'è in concreto questa piattaforma che voi avete realizzato, che appunto ricordiamo si chiama Atlas, ci fa vedere qualcosa? Come è stata costruita e soprattutto poi come la si può utilizzare per la didattica? Dico solo qualcosa relativamente al nome che è significativo. Il nome è Atlas. Atlas è un nome che ha una sua storia. Atlas è Atlante, quindi già ci dice che la piattaforma funziona come un atlante di immagini, ma c'è un riferimento metodologico ben preciso che è Warburg, il metodo warburgiano e poi panoschiano, quindi il raggruppamento delle opere d'arte in una chiave tematica, allo scopo di vedere le ricorrenze di certe iconografie, di certe tipologie, di certi stilemi nel tempo. Allora, eccoci qui. Questo è come si presenta dall'interno il sito. Vedete, piattaforma di immagini per la didattica della storia dell'arte nelle scuole superiori. Il sito non è visibile al pubblico per una questione di privacy. Allora, come si può vedere, abbiamo una serie di immagini e sul lato destro e sul lato sinistro tutte le categorie in base alle quali le immagini sono state caricate e quindi in base alle quali sono anche cercabili. Quindi l'autore, oggetto, quindi dalla scultura, pittura, orificeria e così via, il soggetto, quindi i vari temi, l'ambito culturale, la datazione e poi delle tag stilistiche di cui parlerò in un secondo momento. Ecco, quindi professoressa, se abbiamo capito bene, queste immagini che qui adesso vediamo sono immagini che sono state trovate, cercate dagli studenti, inserite dentro questa piattaforma e sono gli studenti stessi che per ciascuna immagine hanno creato la chiave di ricerca, il tag, è così? Esattamente, cioè, e forse qui si può lasciare parlare il professore Angelillo, all'inizio è stato chiesto agli studenti di scegliere dei temi e per ogni tema di andare a fare delle ricerche su internet. Forse è il caso di lasciare la parola al collega che ha seguito questa fase qui in maniera molto precisa. Beh, innanzitutto c'è un problema di riconoscimento dell'immagine perché gli studenti devono, a partire proprio da il tema che loro hanno scelto, il tema iconografico che loro hanno scelto, devono andare a ricercare con le parole chiave sui motori di ricerca delle immagini che hanno anche delle qualità di un certo tipo che possono essere caricabili sul sito evidentemente, con dimensioni, eccetera, e che poi devono riuscire anche a capire perché queste immagini, diciamo, se hanno gli elementi per poter, gli elementi anche qualitativi, esattamente, cioè devono creare una sorta di scheda anagrafica di ogni immagine, quindi non sapere se l'autore, il periodo storico, l'oggetto, il supporto su cui viene fatto, c'è una serie di elementi che devono andare a ricercare all'interno ancora su internet, quindi è una sorta di sistema, diciamo così, educativo basato sulla disciplina anche, la capacità disciplinata di usare internet, di usarlo con un certo rigore, no? Questo è stato importante per poter dopo selezionare le immagini che erano certe, per esempio un'altra cosa importante è avere la capacità di selezionare l'immagine falsa dall'immagine vera, anche questo, a volte avevamo delle immagini che apparentemente erano dell'autore, ma che erano delle copie, copie magari, la professoressa Savetieri ha fatto anche delle lezioni e abbiamo fatto di tutorial appositamente per far cercare le immagini in un certo modo, no? Quindi il sito attualmente, o meglio il sito, la piattaforma, consiste di un sistema formatizzato e da una serie di tutorial che permetti di utilizzarlo in modo adeguato. Queste ricerche devono essere fatte, evidentemente, basandosi su materiali che sono sicuri, certi, e qui è importante capire quanto la scuola possa insegnare la selezione tra le cose vere e le cose false, le fake news famose, e poi anche di organizzare questi materiali e utilizzare soprattutto una piattaforma. Il ragazzo si abito a usare internet, ma dal punto di vista dell'autore, quindi di chi produce le banche dati, le usa, le struttura, e questo è importante perché un domani sarà normale utilizzare banche dati internet. Quindi questa conoscenza è una conoscenza in più che viene data proprio dal fatto di poter lavorare nel back-end del sito. Senta professoressa, questo da quanto vediamo è anche un bel marchigegno sotto l'aspetto informatico, quindi a chi vi siete affidati per realizzare il marchigegno? Sì, dunque dal punto di vista strutturale e metodologico, ovviamente Atlas è il frutto di una collaborazione continua tra me e il professore Angelillo. Tuttavia questa struttura ha preso una vita informatica grazie al sostegno e anzi all'intervento decisivo degli informatici del Polo 4 dell'Università di Pisa. Vorrei nominare Patrizia Corsi e Dario Besseghini che veramente con tutte le cose che hanno da fare, perché sono informatici di Ateneo, hanno capito e compreso cosa chiedevamo. Ecco benissimo, abbiamo dato una panoramica alla piattaforma, ma nel concreto per caricare le immagini lo studente cosa deve fare? Quindi lo studente inserisce il titolo, può inserire la collocazione e anche l'adattazione precisa, dopodiché carica l'opera e va a spuntare tutti gli aspetti della scheda anagrafica, cioè identificativa dell'opera, che riguardano l'opera stessa. Quindi si tratta di una pittura, si tratta di ritratto, c'è il corpo maschile e il corpo femminile. Il ritratto è interessante anche perché ci sono degli abiti, dei copricapi, dei gioielli, sullo sfondo si vede un paesaggio, c'è la campagna, e quindi il momento della compilazione della scheda anagrafica è un momento fortemente conoscitivo, che costringe lo studente a osservare il bene dell'opera e a vedere quante tag può collegare all'opera stessa. Dopodiché ovviamente c'è la datazione, l'ambito culturale che è il rinascimento, e a quel punto ci sono le tag stilistiche, quindi l'opera viene vista dal punto di vista stilistico, dal punto di vista della luce, il naturalismo, analisi, sintesi, policromia. Ora, le tag stilistiche sono state da me spiegate in dei video tutorial in cui ho preso ciascuno di questi criteri stilistici e li ho spiegati con degli esempi. Ci sono dei tutorial di massimo 7-8 minuti, a volte anche meno, e che qualora un docente fosse interessato all'utilizzare Atlas può attingere a piene mani da questo materiale esplicativo sia delle tag sia dell'uso stesso da parte dello studente della piattaforma. Senta professore, allora abbiamo visto che questo progetto in realtà è anche, se vogliamo, un progetto di educazione civica perché è un progetto che aiuta gli studenti a usare in modo consapevole, in modo più attento anche gli strumenti digitali, in particolare internet, in particolare il web, Google e così via. Quindi è un progetto che ha anche un valore, una valenza, anche al di fuori della storia dell'arte. È così? Sicuramente. No, innanzitutto c'è da dire che un ambito scolastico potrebbe farne un uso, per esempio, anche il coordinatore dell'educazione civica, per esempio, oppure anche in termini di Ptco, attenzione che è anche utilizzabile in questo senso. Nello specifico dell'educazione civica noi sappiamo che è stata introdotta tre anni fa, tre, quattro anni fa, e che ha avuto all'inizio una difficoltà anche ad attivare delle metodologie, degli strumenti per l'insegnamento. In particolare noi, diciamo, per quanto ci riguarda, facciamo riferimento all'asse della cittadinanza digitale, perché in effetti fare un'attività di ricerca su internet, anche selezione delle immagini, richiede una certa conoscenza di quelle che sono anche, per esempio, le normative riguardo all'uso che se ne può fare dell'immagine, la ricerca delle fonti appropriate, le fake news, i diritti autore, l'utilizzo dei diritti autore, l'utilizzo delle banche dati, cioè c'è un'area molto importante, molto interessante, che in questo tipo di attività richiede un approfondimento degli aspetti che sono legati proprio all'uso del digitale per i ragazzi. Senta, professore, lei ha notato studenti che magari all'inizio dell'anno erano un po' disinteressati nei confronti della storia dell'arte, che poi grazie a questo strumento un po' attivo si sono fatti coinvolgere, quindi sono stati soddisfatti di questa attività? Questa attività l'ho vista più sotto un profilo pedagogico e devo dire che il risultato è stato positivo. Non mi ha tolto nulla rispetto al programma che avevo previsto, ho rispettato i tempi, ho rispettato tutto quello che era previsto dall'attività didattica, però abbiamo fatto qualche cosa in più, che i ragazzi hanno vissuto con interesse, anzi volevano proseguirlo l'anno successivo, quindi evidentemente c'è un certo entusiasmo sia da parte degli studenti che è stato riscontrato, sia nei confronti appunto dei genitori, che di fatto coinvolge le famiglie. Stiamo parlando di coinvolgere, riguardo l'arte, l'intera popolazione, cioè non è un lavoro legato semplicemente a un'attività didattica e formativa. In più c'è una dimensione di la crescita dello studente che è stata vista proprio grazie al fatto che loro attivano dei percorsi cognitivi che possono essere usati anche in termini trasversali con diverse altre materie, proprio come metodologia di studio che è utile per esempio nella maturità, dove oggi viene richiesta una grande capacità di usare argomentazioni molto diverse. Sentite, ma a questo punto se una scuola, una classe, un insegnante fossero interessati a aggiungersi, a partecipare a questo progetto, cosa possono fare? Allora, devono contattarci. Dopodiché si fa una convenzione perché il dominio di Atlas è un IP, quindi una convenzione tra il Dipartimento di Ciudeltà e Forme del Sapere e la scuola stessa, precisando che Atlas è, diciamo, la proprietà intellettuale di Atlas è mia e del docente Antonio Angelini, dopodiché il polo 4 di informatici va a clonare il sito Atlas, può diventare Atlas 1, Atlas 2, Atlas 3, ovviamente vuoto, cioè questa struttura c'è, è sempre quella, anche se si possono aggiungere degli oggetti, degli autori, dei temi e poi sono, appunto, come abbiamo spiegato, sono gli stessi studenti che caricano le immagini e creano materialmente il database. Bene, noi vi ringraziamo per questa bella chiacchierata e vi facciamo anche i complimenti, ovviamente, per molti aspetti decisamente interessanti, sia dal punto di vista dei contenuti, ma anche, come ha sottolineato ora il professore Angelillo, dal punto di vista anche pedagogico, dal punto di vista didattico, ovviamente vi facciamo i migliori auguri per il proseguimento dell'attività e ci auguriamo che ci siano anche altre classi che l'anno prossimo possano essere interessate a partecipare a questo progetto. Grazie ancora alla professoressa Chiara Savettieri e al professor Antonio Angelillo. Grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie a tutti.